Continua ad essere in stallo la situazione che riguarda la vendita dell'area di Villa Marina. Ancora senti le offerte destinate al plesso di proprietà dell'Inps, motivo per cui, in mancanza di proposte economiche concrete, come accaduto anche negli scorsi mesi estivi, l'ultima asta è andata nuovamente deserta. Sempre due i lotti in vendita, il primo, quello comprendente la struttura ex scuola e convitto di oltre 12.000 m2, e poi la zona sportiva, situata dall'altra parte della strada in Viale Trieste. Proprio l'ala sportiva scoperta di Villa Marina, di recente è stata oggetto di interesse da parte dell'amministrazione comunale. Nell'ultima estate, infatti, insieme all'esperimento di pedonalizzazione di Viale Trieste, il Comune aveva deciso di allestire nella zona, fino alla fine della stagione, 150 parcheggi gratuiti ad uso cittadino. Esperimento considerato più che positivo e riuscito da parte dell'amministrazione, la quale aveva poi ipotizzato un probabile interesse per l'acquisizione dell'area, insieme a Pesaro Parcheggi, con l'obiettivo di riproporre la soluzione adottata nell'estate 2020 anche per la prossima stagione. Invariato il valore degli immobili, oggetto di tagli rilevanti già nell'ultima asta dello scorso giugno, che hanno abbassato il costo totale dell'intera proprietà di circa mezzo milione di euro. Il complesso di Villa Marina arriva quindi a contare la cifra di 5,8 milioni di euro, una somma composta dagli oltre 4 milioni della struttura ex-colonia, a cui va aggiunto il restante milione e 650 mila euro della zona sportiva. Una riduzione di prezzi notevole, soprattutto se riferita ai numeri del 2019, con una differenza di costo superiore ai 3 milioni di euro. A rimanere fuori dal discorso vendita anche in questa occasione, è stato l'edificio della ex Pesaro Studi. I locali della vecchia sede universitaria, non compresi nel discorso Asta, potrebbero risultare funzionali nei prossimi mesi ad ospitare gli studenti dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Soria, per il quale sono previsti degli importanti interventi di ristrutturazione. Ancora incerto quindi il destino del grande comprensorio di Viale Trieste, per cui ancora oggi, con l'ultima asta intercorsa, non si è palesata alcuna offerta concreta.